Avevo un'aspettativa perché avevo già visto dei lavori che ho realizzato e quindi immaginavo più o meno che potesse essere una cosa simile, ma quello che ci è arrivato sembrava cucito su di noi, nel senso che è esattamente come volevamo ricordarlo. Allora il punto è questo, se stai pensando di risparmiare e fare solo il video o fare solo le foto, io ti consiglio di non farlo, per il semplice fatto che se tagli sul video devi sapere che comunque le foto per quanto sono belle e tutto il video riassume, non in una foto che comunque è statica e quell'attimo, quell'emozione, ma ti aiuta ad arrivare un momento, ti dà quella sensazione di movimento, della festa, dell'ingresso, riesci a vedere quando hai mandato giù, hai inghiottito la saliva perché eri emozionato, sono tanti piccoli momenti che sì, una foto può dare ma il video completa, se un video è fatto bene come lo fa batticuore ne vale davvero la pena. Grazie a tutti!